Ciao, benvenuti a un nuovo video per la pupa nell'academy. Ormai siamo a dicembre e quindi il tema di questo video non può che essere le feste, le feste di Natale, le feste di Capodanno, comunque le feste che sanno per arrivare. Io in questo video vi voglio proporre un anel art da ultimo dell'anno. Un anel art che a me appunto ricorda il Capodanno, però comunque siccome non l'ho fatta in maniera troppo esagerata, ma l'ho fatta un po' in maniera stilizzata, un po' a mio parere elegante, non è l'arte che potete indossare sia l'ultimo dell'anno che tutti i giorni di queste feste. Allora, io vi propongo i fuochi d'artificio. Ho usato i colori tipici del Capodanno, che sono ovviamente il rosso in primis, e poi ho abbinato anche l'argento e l'oro. Quindi ho fatto, come al solito, l'anulare e il pollice in maniera differente. Questo perché, a mio parere, facendo così, l'anel art è particolare ma non è troppo pesante. Infatti, facendo tutte le unghie con questo decoro, secondo me sarebbe troppo pesante, e facendole con solo questo decoro sarebbero troppo semplici. Quindi, per renderle più particolari, le ho abbinate insieme. Cosa ho fatto? Ho fatto, appunto, nell'anulare, ho disegnato proprio stilizzati i tre fuochi d'artificio, abbinandoli su uno sfondo rosso con colori oro e argento. Infatti, una parte oro e una parte argento, puoi farvi vedere come fare. Nelle altre dita, qui in contrapposizione, poi nel mignolo, invece lo faremo sempre qua verso sinistra, ho creato la coda dei fuochi d'artificio, ovvero ho fatto una French rossa con glitter argentati, e sotto, con gli stessi colori dei fuochi d'artificio dell'anulare, ho realizzato la parte finale dei fuochi d'artificio, sempre in maniera stilizzata, e secondo me molto carina. Quindi questa è la mia proposta di nail art per le feste e nail art per l'ultimo dell'anno. Spero che vi piaccia, ora vi mostro un po' come l'ho realizzata. Per prima cosa vi mostro come fare la French nel mignolo, così nel frattempo che asciugherà la French faremo il disegno sul pollice. Quindi per realizzare la French e comunque il monocolore, ho utilizzato lo smalto 416, che è questo rosso, della Golden Casino, la collezione appunto per le feste di Pupa. Ovviamente sotto ho messo la base, per questo video ho scelto la base sbiancante anti-giallo, e non l'ho scelta a caso. Adesso mentre vi faccio vedere la French vi spiego il perché. infatti la base sbiancante anti-giallo, praticamente ha dei riflessi violaci, che appunto dovrebbero rendere l'unghia più bianca, e quindi sotto la French, cioè appunto nella parte in cui non mettiamo smalto, si vedono questi piccoli riflessi, e secondo me rendono ancora più bello l'effetto della French. Quindi realizziamo la French, se appunto voi non riuscite a fare la mano libera, prendete le lunette, che sono appunto quelle bianche per fare la French, quei pezzettini di carta a forma proprio di lunetta per fare la French, oppure lo scotch se vi piace quella dritta. Facendola a mano comunque, potete farla in questo modo, e poi se avete qualcosa da correggere, potete usare la penna correggi smalto, oppure semplicemente un cotton fioc imbevuto nell'acettone. Con la penna o col cotton fioc, potrete sistemare la parte che non vi è uscita perfetta della French, in questo modo. Vedete? Adesso, nel frattempo che aspettiamo che la nostra French asciughi, creiamo il disegno nel pollice. Per creare il disegno nel pollice, ci occorreranno uno smalto dorato, 800 dei lasting color pupa, proprio oro intenso, e poi un argento, che in questo caso è l'801, sempre lasting color pupa. Prendete un foglio di carta, o comunque un qualcosa su cui appoggiare lo smalto, e fate cadere prima di tutto una goccia di dorato. In questo modo. Dopodiché, prendete un pennello con la punta sottile. Io in questo caso uso questo. Intingete la punta del pennello, e dopo di che realizziamo i fuochi d'artificio. Per realizzare i fuochi d'artificio, iniziamo facendo una linea dritta, qua nella punta dell'unghia. Dopodiché, ne facciamo una a lato, una qui sotto, e una sempre qua a lato. In questo modo. Facciamo la stessa cosa, qui più lateralmente, e un po' più in basso. Praticamente una sorta di croce, lasciando appunto gli spazi, ovvero queste righe non si devono incontrare. E la stessa cosa qua sotto. Dopo aver fatto questo, puliamo la punta del pennello, e prendiamo lo smalto argentato. Mettiamo una punta di smalto argentato, come abbiamo fatto col dorato. Riprendiamo il pennello, rintingiamo la punta, e questa volta le righe le faremo fra quelle dorate. Quindi, se noi abbiamo fatto una dorata qua, e una dorata qua, la righe argentata la faremo qua in mezzo. E così via. In questo modo. È molto semplice, cioè praticamente negli spazi dove non ci sono le righe dorate, facciamo le righe argentate. Il disegno è molto elementare, però secondo me nell'insieme rende molto l'idea, e appunto è realizzabile da tutte, ed è una nail art, comunque a mio parere d'effetto. Io l'avevo fatta anche su... cioè, quando l'ho provata qualche settimana fa, avevo le unghie più lunghe, adesso mi si sono purtroppo spezzate, però adesso vi metto anche una foto, per farvi vedere come rende sulle unghie lunghe. sicuramente rende molto di più, però io, anche se ho le unghie più corte, cioè a me, anche se sulle unghie un po' più corte come ce li ho adesso, mi piace, e infatti vi dimostro così che è una nail art adatta sia alle unghie lunghe che alle unghie corte. Ovviamente non è eccessivamente corte, perché comunque se non risulterebbe troppo pesante, però nelle unghie di corte, media lunghezza come ce li ho io, è davvero carina. Adesso vediamo come fare il disegno sul mignolo. Anche qui, semplicissimo. Prima di tutto prendiamo l'802, che sono questi glitter argentati, che mi piacciono un sacco, e li mettiamo nella parte finale della French. In questo modo. Dopodiché, ci serve nuovamente lo smalto dorato, se si è seccato, li aggiungiamo un pochettino, e ci serve nuovamente il pennello dalla punta fine, e anche un dotter, che è lo strumento per fare i pua. Quindi, abbiamo fatto qui il disegno che va verso destra, e qua il disegno che va verso sinistra. Qui lo rifaremo verso destra, quindi dovremo fare per metà unghia dei pua, che partono da sinistra, quindi semplicissimi pua, che potete fare col dotter, o con uno stecchino. In questo modo. Dopodiché, prendiamo il pennello dalla punta sottile, e continuiamo, dopo i pua, a fare una riga. Cioè, praticamente seguiamo la riga della French, e facciamo una riga adorata. Scusate. Adesso dovremo fare il continuo, appunto, dei fuochi d'artificio, la parte finale, che prende più o meno, tutta la metà dell'unghia. Quindi, faremo, una riga, che parte da metà unghia, e arriva qua su, che arriva qua su, dove abbiamo interrotto la riga sotto la French, e ne facciamo tre, quindi una, due, e tre. Dopodiché, puliamo la punta del pennello, riprendiamo lo smalto argentato, e fra le righe dorate, facciamo quelle argentate, quindi allo stesso modo dei fuochi d'artificio fatti sull'anulare, nello spazio fra le righe dorate, mettiamo quelle argentate, sempre a metà unghia, con la stessa grossezza, in questo modo, in questo modo. Quindi, questa è l'anulare finita, ovviamente la vedrete meglio dalle foto, però spero che, anche se l'immagine non sarà nitidissima, neanche per questo video, spero che almeno il procedimento vi sia abbastanza chiaro, quindi è facilissimo, basta fare appunto una sorta di croce qua con lo smalto dorato, senza far incontrare le righe, e tra gli spazi delle righe dorate, mettere anche quelle argentate, e quindi creare così, una sorta di fuoco d'artificio stilizzato, mentre nelle altre dita, bisogna fare una semplice french rossa, ricoprire la french con glitter argentati, e fare la coda del fuoco d'artificio, ovvero tre righe dorate, quattro in realtà, perché una è sotto la riga della french, e poi altre tre, e in mezzo a quelle, sempre le righe argentate. Dopodiché, ovviamente, bisogna aspettare che il tutto si asciughi, e per rendere la nail art più brillante, e più scintillante, perché comunque questi glitter, e questi smalti così brillanti, appunto brillano tantissimo, bisognerà dare una passata di fissaggio, di fissatore brillante e smalto, quindi aspettiamo per bene che si asciughi, e dopodiché, diamo un abbondante passata di fissatore. Spero che la nail art, appunto, vi sia piaciuta, non mi resta che augurarvi, un buonissimo Natale, e un felicissimo anno nuovo, sperando che, lo passiate nel migliore dei modi. Niente, quindi vi mando, i miei più cari auguri, vi mando un bacio grande, e alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.